non so ho bisogno di un attimo per riprendermi ho veramente bisogno di un secondo per riprendermi perché questa vittoria qui ragazzi questa vittoria qui ragazzi questa vittoria qui quanto cacchio è pesante ho fatto 45 minuti di apnea credo di aver vinto il record mondiale di apnea record mondiale di apnea ho stabilito questa sera mi dispiace mi dispiace che che ste partite debbano essere così perché noi non siamo in grado di fare una partita intera fatta bene ero tanto contento del primo tempo tanto contento del primo tempo dove eravamo riusciti a a scendere in campo con un ottimo atteggiamento un ottimo atteggiamento bravi davvero bravi per come è stata preparata a livello tattico bravi per come è stata giocata a livello tecnico bravi per come è stata approcciata a livello mentale bravi per come è stata gestita a livello fisico primo tempo meraviglioso meraviglioso e poi ragazzi ci sciogliamo peggio di un ghiacciolo lasciato nel deserto in estate stasera ci siamo giocati un jolly ho bisogno un attimo di riprendermi perché veramente ho fatto un secondo tempo che che mi è salita all'ostia della comunione di quando ho fatto la comunione da piccolino e ha risalito tutto tutto ha risalito ma meno male che c'era Scesni meno male che ha fatto quella parata Scesni su Nico González per fortuna perché Nico González ha fatto un tiro a giro sul secondo palo che ciao queste le falangi non c'è più le falangi Scesni ragazzi allora cerchiamo di andare un attimo con calma adesso ho fatto lo sfogo per due minuti iniziali vi chiedo come al solito un mi piace un commento un'iscrizione al canale dato che tra un mese festeggeremo i dieci anni del canale YouTube e cerchiamo di arrivarci ai migliori condizioni oggi è una giornata di Serie A perfetta per la Juventus perché se ieri aveva vinto la Roma il derby contro la Lazio oggi l'Atalanta addirittura perde a Cagliari e il Bologna pareggia 0-0 contro il Frosinone con un'occasione al minuto 94 di Ndoie che va a graziarci cioè questi due episodi l'errore di Ndoie e gli errori sottoporta a Fiorentina nel secondo tempo sono vitali vitali per la Juventus vitali sono veramente una boccata d'aria d'ossigeno come se avessimo fatto un apnea in piscina per tutta la giornata e ora possiamo respirare perché sulla carta era più difficile la nostra giornata piuttosto che il Bologna era molto più facile vedere il Bologna vincere superare la Juventus giocare una partita da quarta in classifica invece ha dato tutto alla perfezione tutto alla perfezione dal punto di vista del risultato dal punto di vista dei punti ha dato tutto alla perfezione meraviglioso benissimo anche la sconfitta dell'Atalanta proprio la ciliegina sulla torta soltanto la Roma ha tenuto il nostro passo in questa giornata qui soltanto la Roma primo tempo approcciato bene Allegri sceglie ancora i dieci giocatori in movimento rispetto a quella alla partita con l'Alessio cambia soltanto in portiere perché Perini è quello di Coppa e Cesni è quello titolare in generale nel primo tempo non c'era la Fiorentina nel primo tempo non c'è stata veramente la Fiorentina con invece la Juve che ha fatto la sua partita anzi ci sono stati anche un paio di spunti tattici interessanti con Danilo che entrava dentro il campo principalmente la Juventus che andrà a giocare col WPV vorrei fare anche un contenuto su questa roba per cercare di prendere il bello di quello che è accaduto con la Juventus che fa 4 gol nel primo tempo 3 vengono annullati primi 2 per fuorigiochi netti perché McKennie fa gol in fuorigioco dopo la palla che gli viene rimessa dentro così come Vlaovic che tocca Bremer addirittura e il gol viene annullato per quello poi abbiamo il gol effettivamente dell'1-0 di Federico Gatti un gol dopo un palo di Bremer su un colpo di testa di Bremer che va a spezzare la palla torna lì a Gatti che riesce a insaccare la porta a porta anche in maniera un po' sporca perché non la tocca proprio benissimo ma per fortuna la palla va dentro meno male benissimo così Juventus in vantaggio 1-0 e poi c'è addirittura il 2-0 di Vlaovic dopo un'azione meravigliosa da parte della Juventus perché è stata una bellissima azione che parte da Danilo in copertura su Nico Gonzalez si sviluppa molto bene con Chiesa che va a fare l'uno contro l'uno sulla sinistra con Rabiot che fa dei movimenti senza palla stasera nel primo tempo abbiamo visto tanti movimenti senza palla una cosa che è mancato tantissimo la Juventus in queste partite in questi anni in questa stagione in quest'ultimo periodo tantissimo è mancata sta roba qui stasera l'abbiamo visto fare nel primo tempo poi nel secondo purtroppo no nel primo tempo invece sì le abbiamo viste c'è stato quel movimento di Rabiot a liberare Chiesa quel contro movimento anche molto bello di McKennie che cercava di rientrare al fuorigioco non ci riesce purtroppo non ce la fa Evlaovic che insacca un pallone meraviglioso ma ahimè McKennie ancora in fuorigioco la Fiorentina inizia a provarci sul termine del primo tempo l'avimento si inizia a mollare qualcosa negli ultimi dieci minuti di primo tempo poi si va nelle spogliatoie e si torna in campo alcune mosse di italiano alcune che non mi hanno neanche convinto tantissimo come lasciare Barak come approcciare il secondo tempo inizio al secondo tempo senza punte comunque voler continuare a crossare la palla certo togliere il riferimento a Bremer si può essere un'idea però se poi l'idea è andare a crossare se non c'è gli attaccanti in mezzo all'Aventus fai solo un favore con la difesa dell'Aventus così composta infatti poi cosa fa l'italiano va a modificare tutto addirittura a mettere due attaccanti anche se Beltran è un attaccante un po' finto l'unica vera punta era Anzolà il peccato che poi la Juventus nel secondo tempo abbia deciso di annullare completamente la strategia offensiva del primo tempo una strategia che convolgeva anche il pressing la Juventus ha pressato tanto nel primo tempo invece nella seconda parte di gara si è abbassata e tanto sono curioso di andare a vedere i dati sul baricentro medio della Juventus che usciranno sul sito della Serie A perché la Juventus è proprio sembrata una squadra completamente diversa nella seconda parte se nella prima parte la Fiorentina non era riuscita perché la Juve faceva quel qualcosa in più nel secondo la Juve ha fatto quel qualcosa in meno la Fiorentina ha trovato coraggio e dopo la Juve ha rinunciato completamente completamente ad attaccare voleva soltanto portarsi avanti e a casa quel gol di vantaggio quel singolo gol non è un caso che sia l'andata che ritorno siamo finiti esattamente 1-0 per la Juventus 6 punti contro la Fiorentina con un solo gol di scarto però si rischia e si rischia troppo perché se quella palla di Scesni e di Nico González con la parata di Scesni abbiamo già descritto come un vero e proprio miracolo ragazzi ci sono state anche delle altre occasioni della Fiorentina soprattutto quella che è nata dalla sinistra con quel cross mi pare di Biraghi messo in mezzo con Beltran che va a calciare quel pallone praticamente sul dischetto di rigore anche una palla messa a rimorchio dietro banale scontata con la Juve che è sempre bassa compatta con quel blocco con quel blocco lì e per fortuna c'è Zola sulla traiettoria la palla si impegna ancora una volta a Scesni e la fa sua ragazzi io dicevo in live che non avevo la sensazione che la Fiorentina potesse fare gol ma avevo la paura che erano due concetti separati diversi e la confermo ancora perché la Fiorentina mi è sembrata una squadra esattamente come l'avevamo descritta oggi cioè sterile molto sterile la Fiorentina una squadra che fa fatica a concretizzare quelle anche poche rare magari palle e gol che crea però poi la paura sì perché la Juve ha completamente rinunciato a voler fare il gol del 2-0 per chiudere la partita e quando poi ti metti 5-4-1 4-5-1 quello che è perché poi cambia veramente poco quella roba lì e decidi soltanto di andare a intercettare l'idea di passaggio metti in preventivo accetti che gli ultimi 10-12-13 con il recupero minuti di gara siano solo basati sul fatto che loro possano magari sbagliare di più di quanto potresti fare te perché noi non siamo ancora una squadra matura in grado di gestire il risultato questa Juve non lo sa fare lo abbiamo visto la Juventus va la seconda vittoria di fila questa è una boccata d'aria incredibile ma più che quella della Coppa Italia questa è una partita fondamentale per la Juventus fondamentale benissimo vincerla benissimo vincerla anche con l'approccio del primo tempo ma quel secondo tempo lì lo dobbiamo modificare ragazzi dobbiamo mandarlo giù dobbiamo mandare giù che questa cosa deve cambiare poi è ovvio che non mi aspetto che cambierà nell'ultime otto partite della terza stagione della stessa guida tecnica che non ha interesse nel cambiarlo però per migliorare al di là di Allegra al di là del ciclo di Allegra al di là dell'Alegribis per fare veramente il click di mentalità a noi queste cose le dobbiamo migliorare stop alla Juventus queste cose serve migliorarle sarà l'anno prossimo con un nuovo allenatore molto probabilmente sì perché anche la giornata di oggi ci hanno dato delle indicazioni che vanno verso l'esonero di Allegri e Tiago Motta sempre più vicino di questo poi parleremo dopo perché oggi è il giorno della partita ed è giusto parlare della partita una Juventus dalle due facce che mi è piaciuta veramente tanto nella prima frazione e che mi fa dire possiamo farle queste partite qua possiamo fare a maggior ragione con una partita a settimana certo che possiamo fare queste partite qua certo che possiamo e anzi per me dobbiamo fare queste partite qua perché queste sono le caratteristiche ideali che vai a esaltare le caratteristiche dei giocatori le partite durano 90 minuti le partite durano 90 minuti e noi dobbiamo imparare a non giocarne solo una di frazione di gara perché perché sì perché sta tutto qua sta tutto qua questa stagione della Juventus è esattamente l'andata e il ritorno l'andata che wow fai tanti punti di ritorno che non li fai primo tempo che ah che partita secondo tempo che non lo giochi o l'altra sera con la Lazio primo tempo che non lo giochi nel secondo tempo vieni fuori non possiamo sempre solo accontentarci dobbiamo iniziare a volere continuità di rendimento che ti porta poi i risultati dobbiamo migliorare da questo punto di vista soprattutto perché la Juventus è una squadra con dei giocatori da formare ci sono tanti giocatori che ancora non hanno vinto vanno plasmati vanno accompagnati presi per mano e portati a quel livello lì mi viene in mente ciò negli occhi la ripartenza nel finale dove nasce la punizione che ha battuto Alcaraz dove Ken fa meta c'è Ildis che porta palla e vuole puntare vuole andare al centro del campo per andare a concludere poi Beltrano arriva fa falla bla 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 ma nel frattempo Allegri chiede il calcio d'angolo cioè quella lì è una situazione emblematica io capisco che Allegri voglia il calcio d'angolo in quella frazione gli mancano niente quindi porti fuori la palla fai esaurire completamente il tempo vinci la partita e il giocatore fa il contrario cioè noi queste cose qui ancora non abbiamo i meccanismi perfetti oliati cioè anche perché noi che magari seguiamo la Juventus del Lega da tanto tempo sappiamo benissimo che il Lega in quel frangente vuole la bandierina quindi Ildis non lo sa non gli è stato spiegato lo deve sapere in quel momento lì cioè questi sono tanti dubbi perché sembrano delle cavolate ma poi i punti le vittorie le prestazioni i risultati le classifiche passano anche da queste robe qui passano da queste robe qui ripeto non tanto per per questa stagione perché ormai alle porte è terminata e terminerà e non ci saranno margini di miglioramento per noi per le prossime annate per le prossime partite dell'anno prossimo questa roba dovremmo sicuramente migliorarla la Juventus stasera la palla non l'ha praticamente mai avuta tra i piedi perché è stato tre quarti Fiorentina un quarto Juve ma la Juve non deve nemmeno importare avere la palla tra i piedi se fa delle partite così aggressive impressione di break come nel primo tempo se le fa come nel secondo è un bel problema perché siamo nulli siamo nulli ragazzi buona serata grazie per essere arrivati fin qua grazie per il supporto se avete lasciato il mi piace il commento di queste robe qui quarto gol di gatti eh quarto gol di gatti pesantissimi gol di gatti pesantissimi quello del Monza questo qui quello del Napoli tutte le partite cambiamenti con un gol di scarto con un gol di gatti pesantissimo gol pesantissimo giocatore davvero allegriano per definizione ciao ciao ciao